ciao ragazzi bentornati su hard rock crypto in questo video parleremo di layer 2 per ethereum se nella scorsa bullrun la narrativa principale era quella dei layer 1 trovare l'ethereum killer ora non se ne parla assolutamente più abbiamo capito che ethereum è qua per rimanere sul lunghissimo periodo e che l'unica soluzione almeno questo ci sta dicendo il mercato è appunto fare scalare ethereum con tanti layer 2 quindi andremo a vedere i principali layer 2 le differenze tra i vari protocolli optimistic e zero knowledge pro una specie di introduzione sull'argomento vastissimo dei layer 2 prima di andare avanti vi ricordo che in descrizione troverete i timestamp così potrete saltare la parte del video che vi interessa di più e ora che siete lì lasciate un bel like iscrivetevi e tutte queste belle cose questa è la situazione attuale dei layer 2 abbiamo poco meno di 10 billion di tvl sta dominando arbitrum con 5,3 billion poi abbiamo a seguire optimism zk sync dydx che il neonato bay poi starknet e tutti gli altri a seguire vedremo perché i layer 2 saranno fondamentali nella prossima bull run con un catalyst importantissimo che è appunto il prossimo aggiornamento di ethereum l'eip 48 44 il cancun hard fork che porterà dei notevoli vantaggi notevoli miglioramenti soprattutto sotto la forma delle transazioni più veloci come sempre e commissioni più basse le fees comunque non sono indifferenti quale vedete ragazzi per spedire ethereum si può arrivare anche a 41 centesimi nel caso di starknet che ricordo è ancora in beta e per fare uno swap vedete che su ethereum costa addirittura 8 dollari ma anche di più lo sappiamo benissimo e arriva a 46 centesimi su polygon addirittura un un dollaro su starknet e l'obiettivo appunto dell'eip 48 44 è quello di ridurre almeno di un ordine di grandezza queste fees quindi costerà probabilmente 5 6 volte meno loro dicono anche 10 volte meno vedremo cosa succederà questo video ragazzi sfrutteremo la collaborazione con the crypto pro che fornisce delle guide fatte molto bene su un sacco di argomenti interessantissimi è appena uscito un loro articolo premium appunto sui layer 2 quindi andremo ad analizzare questo report di decrypto scritto dal mitico andrea venturelli che ringraziamo per questa collaborazione e quindi ci avvalleremo di questa guida e in decrypto ci sono tantissimi altri servizi vi invito a dare un'occhiata in descrizione se siete interessati ma perché bisogna far scalare tv un perché chiaramente tv non ce la fa una capacità di 12 transazioni al secondo e ogni giorno che passa non non bastano assolutamente in bull market sono veramente insufficienti tv vuole essere una specie di internet 2.0 su cui tutto il mondo finanziario e non solo girerà è questo un po l'idea di ethereum ma con 12 transazioni al secondo non si va da nessuna parte coi layer 2 siamo arrivati a 50 transazioni ma anche qua non basta per cui dobbiamo arrivare con i successivi aggiornamenti a migliorare anche l'efficienza dei layer 2 quindi le soluzioni layer 2 operano al di sopra ovviamente la block chain di ethereum e quindi aggregando tutte le transazioni dei vari layer 2 in un certo modo la capacità di ethereum chiaramente cresce ci sono due filosofie di pensiero optimistic e zero knowledge lo stesso creatore di ethereum vitalik buterin riconosciuto l'esigenza di passare a un sistema basato su layer 2 appunto come vedete da questo grafico la riga blu qua sotto sono le transazioni al secondo su ethereum invece il resto del grafico sono quelli dei layer 2 e chiaramente ethereum in questo momento è ampiamente superato dai layer 2 questi sono gli investimenti dei vc sulle soluzioni layer 2 questo è anche molto interessante per capire quali saranno le narrative del prossimo bull market perché questi mitici vc chiaramente vorranno recuperare i loro fondi quindi i progetti che hanno ricevuto più soldi probabilmente dico probabilmente perché non darò mai consigli finanziari andranno abbastanza bene abbiamo linea finanziato lo ricordiamo anche da con che sono quelli che stanno dietro a metamask poi abbiamo zk sync polygon polygon che non è una novità ma continua a raccogliere un sacco di soldi per zk evm ha preso 450 milioni di dollari che non sono proprio pochi qual è la differenza che c'è tra optimistic e zero knowledge pro su optimistic si prende per buona la transazione e poi in un secondo tempo si può andare a contestare che tutto sia a posto ve lo spiego in maniera molto grazie ragazzi sostanzialmente su optimistic si può contestare una transazione per ben otto giorni quindi non si può prelevare da optimistic senza aspettare almeno otto giorni questo può rappresentare un problema soprattutto per le istituzioni che muovono capitali enormi e capite chiaramente che zero knowledge pro è la soluzione migliore da un punto di vista tecnologico perché permette di prelevare immediatamente ed è più sicura ma è chiaramente più lenta in sintesi gli optimistic roll apps sono la scelta ideale per quegli utenti che danno priorità alla rapidità e la economicità mentre i zero knowledge si rivelano la soluzione migliore per chi pone la sicurezza al primo posto anche se ciò chiaramente può comportare un leggero aumento nei tempi e nei costi di transazione tra gli optimistic abbiamo base come lo descrivo coinbase è un 2 sicuro economico e amichevole per gli sviluppatori loro sfruttano chiaramente la loro posizione dominante nel fornire un servizio come sempre molto facile da utilizzare e lo rende molto semplice appunto per gli utenti retail e questo crea adozione quindi base io lo vedo molto bene soprattutto per la semplicità e l'integrazione dentro coinbase che non è cosa da poco perché l'exchange con la miglior reputazione in circolazione soprattutto negli stati uniti e o il sentore che diciamo l'ambiente americano cambierà in futuro optimistic in questo momento sta raccogliendo bene o male il 50 per cento degli utenti attivi in questo momento quindi un milione e mezzo di utenti attivi ogni settimana evidenziando l'importante adozione e la crescente preferenza di queste soluzioni all'interno dell'ecosistema ethereum quindi sicuramente le soluzioni optimistic piacciono con arbitrum appunto al numero 1 optimistic e base tra l'altro base è estremamente profittevole per coinbase perché in meno di 30 giorni hanno già generato oltre 2,6 milioni di dollari di fees per quanto riguarda invece i zk roll up in primissimo posto abbiamo zk sync era che è progettata per offrire un'esperienza simile a quella di ethereum sia per gli sviluppatori che per gli utenti finali oltre a tutto ciò naturalmente zk sync non ha ancora un token e quindi c'è un notevole interesse anche per quanto riguarda l'air drop le entrate sono molto alte in zk sync era anche perché costa molto di più la tecnologia costa di più quindi le fees sono più alte quindi in questo report ci dice che zk sync con gli investimenti massivi dei vc la superiorità tecnologica e anche a livello di sicurezza probabilmente andrà molto bene linea chiaramente ha un potenziale enorme sviluppato da consensus l'azienda che sta dietro a metamask consensus ha negato di voler lanciare un token legato a metamask invece per quanto riguarda linea il token sembra abbastanza inevitabile qua ci dice appunto che gli airdrop sono il mezzo principale per la governance decentralizzata polygon zk pvm facendo un po di tutto inizialmente era un layer one alternativo un ethereum killer ora si sta evolvendo per diventare un layer 2 poi ha fatto anche un rebrand era conosciuto come matic adesso verrà proposto come poll per cui poll sostituirà completamente matic e polygon continua a essere molto apprezzato con una campagna marketing molto importante martenship molto molto significativa e avete visto prima anche dal funding oltre 400 milioni quindi polygon sicuramente sarà protagonista della prossima bull run abbiamo poi stark net stark net ha una tecnologia leggermente diversa la zero knowledge starks e loro dicono di poter risolvere il cosiddetto trilemma della blog quindi offrendo un sistema tempo stesso decentralizzato scalabile e sicuro glielo auguriamo vedremo una tecnologia stark net quindi leggermente diversa da tenere d'occhio quindi questo è quanto ragazzi per questo report c'erano altri rimandi che questo articolo all'airdrop di zk sync ha un approfondimento su optimism eccetera ma chiaramente questi sono contenuti premium e non possiamo mostrare tutto gratuitamente in questo video si trattava appunto di una panoramica generale dei 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 due chiaramente poi bisogna approfondire sicuramente poi ne parleremo ulteriormente come abbiamo detto in questo video molto probabilmente saranno protagonisti indiscussi della prossima bull run e il catalyst di tutto questo sarà sicuramente l'aip 48 44 cancun prevista per il q4 ma gli amici di tiro spesso rimandano ultimamente sono precisi quindi vedremo se nel q4 si parlerà di cancun o al massimo comunque all'inizio del prossimo anno aspettiamo quindi con ansia questi sviluppi su ethereum con l'aip 48 44 nel frattempo ragazzi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate quali sono i vostri layer 2 preferiti state farmando airdrop continuo ripetendo il modo migliore per avere appunto soldi gratis da investire ora nel momento migliore per poi avere un sacco di soldi nel bull market anche perché non mettete quasi nulla quindi risk reward ottimo vi invito come sempre a seguirsi sui social e a seguire anche gli amici di the crypto in descrizione trovate tutto quanto come sempre se apprezzate questi contenuti distruggete il tasto like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e come sempre alla prossima sempre qua su hard draw crypto grazie a tutti grazie a tutti